È giusto così che da qualche parte tu ti senti la mia maglietta, voglio la maglietta, voglio la maglietta. Guardiamoci potete, la differenza di tutti è veramente minima, quindi su questo modo che voi ormai conoscete benissimo, vince, non farò la nota uai, qui è il pallino, dopo il campione, bello! Voglio farla rapiare, perché vinto l'omprema a caso ragazzi! Chi sta! Chi sta!